Bella a tutti i Freeweaders e bentornati a questo appuntamento con Spliff Break. Oggi raccontiamo di una notizia successa in Francia che ha del clamoroso e anche del divertente, perché infatti proprio oggi il deputato francese Francois Michel Lambert ha voluto esporre in Parlamento un discorso inerente alla regolamentazione della cannabis, ma non si è soltanto limitato ad esporre importanti parole che noi condividiamo al 100%, ma ha anche voluto portare nell'aula una canna, una semplice e innocua canna rollata che non ha fatto del male a nessuno, tantomeno a chi l'ha fatta e a chi probabilmente poi l'ha fumata, come esempio dimostrativo di quanto innocua sia questa situazione effettivamente e purtroppo è anche stato multato dal Parlamento francese. Il Presidente Macron ha dichiarato che non è intenzionato a voler regolamentare la cannabis in questo arco temporale, ma il Parlamento mercoledì invece discuterà una mozione inerente alla regolamentazione della cannabis. Una delle situazioni su cui ha fatto riferimento il deputato è che la situazione attuale è effettivamente un fallimento totale con i consumi in aumento e la legge che non funziona. Inoltre ha aggiunto che la proposta non è permissivista, ma intende proprio regolamentare il fenomeno con prodotti controllati dallo Stato e quindi a tutela del consumatore. Una frase importante è stata quella che altri paesi, secondo il deputato, giustamente e secondo anche la realtà, hanno voluto affrontare questa situazione e non praticare la cosiddetta, come l'ha chiamata lui, politica degli struzzi, cioè far finta di niente, cosa a cui noi in Italia siamo molto, ma molto abituati e anzi addirittura è svincolata come metodo di definizione politica sulla propria posizione sulla cannabis per quanto riguarda ovviamente i partiti, ma non solo. Ringraziamo l'esempio di presa di posizione chiara fatto dal deputato Lambert in Francia e ci auguriamo che porti a un rilancio della tematica a livello nazionale e anche internazionale. Anche se in Francia sarà dura in questa legislatura arrivare comunque a un dunque, ecco allora che è sempre importante lottare e fare delle prese di posizione così nette. Noi condividiamo al 100% quanto fatto da Lambert, ora parte il video integrale del suo intervento, fateci sapere cosa ne pensate. Bella a tutti i Free Withers, continuiamo a lottare fino alla libertà. La parola è a M. François-Michel Lambert. Grazie M. le Président. Ma questione s'adresse al Ministro dell'Intérieur. Le Président della Repubblica ha annoncato un grande debat national su la consommazione di droghe. Ce debat è necessario. Nostro paio conta 5 milioni di consumatori di cannabis, 1 milioni di consumatori quotidiani. Questa consumazione ha delle conseguenze importanti su la salute pubblica, soprattutto perché le dealers vendono dei prodotti frelatati. C'è anche una source di insicurità. Per tant, la sola risposta è una politica di prohibizione. Tutto il repressivo è un effetto total. D'autres paesi hanno fatto il choix di una politica di legale, come gli Stati Uniti o il Luxembourg. Hanno fatto il choix di affronter il problema, ma politica di autrucho. Demain, la mission parlementaire d'informazione sur le cannabis rendra son rapport e defendra la legalisation contrôlée du cannabis. Je salue ici mes collègues députés per questo lavoro di qualità. Questa proposition non è laxiste. La legalisation contrôlée par l'Etat permettra, outre di garantire ai consumatori dei prodotti contrôlati, permettra di assiare i traffics e creare dei recetti fiscali e dei emploi. S'accompagnerai di verità politica di prevenzione in direzione dei giovani, per ridurare la consumazione e dei rischi. C'è d'ailleurs il choix fatto per le altre droghe legale, il tabac o l'alcol. Ce débat è quindi crucial. C'è d'abord la salute dei giovani. E d'ailleurs le simple fait de montrer ce gobelet pourrait m'inquiéter. Je pourrais être inquieté pour montrer la legalisation du cannabis. Le simple fait de sortir un joint pourrait également créer des exclames. M. Lambert, il est interdit par le reglement de brandir ce type d'objet. M. Lambert, je vous rappelle au reglement et ce sera inscrit au procès-verbal. La parole est à M. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. M. le Président, M. le député Lambert, la différence entre vous et moi c'est que je ne peux pas montrer toutes les dépressions que les drogues enragent les familles de France. Toutes ces mères et ces pères de familles qui se battent tous les jours pour expliquer à leurs enfants que c'est de la merde qu'ils prennent dans leurs veines et qu'ils fument. Je ne peux pas montrer ici, M. le député, toutes ces personnes qui luttent contre des cancers, qui luttent contre des maladies dépressives, qui ne se résistent pas à cette difficulté parce qu'il y a des discours permissifs et pardonnez-moi de vous le dire, M. le député, un peu démagogie dans vos propos. M. le député, permettez-moi de vous le dire très franchement. Voyez-vous de la cohérence entre les débuts du quinquennat où vous avez voté l'augmentation à 10 euros du paquet de cigarettes parce que vous luttez contre les cancers et la légalisation du cannabis ? Voyez-vous de la cohérence dans la santé publique ? Et pensez-vous que les trafiquants qui font jusqu'à 60 000, 80 000, 100 000 euros d'argent liquide par semaine vont ouvrir une échoppe et déclarer leur argent aux impôts et aux URSAF et rentrer chez eux en respectant le code du travail ? Sortez de la naïveté, combattez la drogue et ne baissez pas les bras ! Monsieur le député, M. le ministre, la naïveté, c'est de croire que vous protégez la santé des Français. Aujourd'hui, ils vous laissez un million de Français tous les jours aux mains des trafiquants. Et nous avons des solutions, les autres pays ont apporté des solutions, la légalisation ! Merci, M. le député. Sous-titrage Société Radio-Canada